Si chiama Michelle René, è una donna che fa la blogger, ma di lavoro svolge l'attività di coccolatrice. Avete capito bene. Pensate infatti che questa donna va a guadagnare circa 150 euro all'ora, ma sono anche, dice così la donna, una partner surrogata. Tanti fanno un'attività lavorativa come lei per la società dedicata proprio a coccolare un cliente. Con tanto di tariffario, va bene? Più di mille ore di sessioni a persona, è diventata ormai una direttrice di una società che va a gestire l'attività in questione. Si tratta di coccole professionali, il pacchetto però comprende anche tanto altro, va bene? Diciamo che più che altro riguarda un tipo di attività che si chiama guarigione relazionale, quindi chi ha bisogno di essere coccolato, diciamo così che lei si prende cura in maniera abbastanza professionale per chi ne ha effettivamente parlando bisogno. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Il video termina qua. Iscrivetevi, iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti.